E' emozionante che ci sia l'opportunità di raccontare storie autentiche sull'Africa, che non sono sempre sulla povertà e le sfide che affrontiamo qui in Africa. E' bello vedere una storia d'amore fresca, leggera e divertente, una commedia con un pubblico internazionale che mostra un altro lato di chi siamo come africani. Sono contenta poi, come donna nera, di aver avuto l'opportunità di un ruolo da protagonista, un fatto che non è scontato. Sono contenta di poter raccontare storie sull'Africa e sul mio paese, che è rappresentato in luce positiva. Non vedo l'ora di cominciare un nuovo lavoro. Prima però voglio ringraziare tutti coloro che hanno visto il film, per il loro sostegno e i feedback che hanno inviato. Grazie a tutti.